Domani a Montorio, presso la Sala Civica, chiude questa seconda edizione della rassegna emergenze mediterranee. Sì, chiude domani a Montorio questa edizione caratterizzata dalla ricorrenza del decimo anniversario della dichiarazione universale dell'UNESCO sulla diversità culturale. Dichiarazione che venne appunto sancita subito dopo i tragici fatti delle torri gemelle. E domani sera appunto a Montorio chiudiamo questo importante appuntamento con Lucia Coracci che riteniamo possa davvero rappresentare la sintesi finale di questo percorso avviato lo scorso anno. Lucia Coracci è un volto assai noto che non ha bisogno di alcuna presentazione quindi verrà a rendere la sua importante testimonianza come inviata che ha seguito i più importanti conflitti bellici a livello mondiale nell'ultimo periodo. Una rassegna lunga da agosto fino a dicembre con questa goda del mese di marzo che ha visto coinvolti i 20 comuni, molti pubblici diversi che hanno in qualche modo accolto l'offerta che noi abbiamo fatto loro di indagare i temi della diversità culturale attraverso i tanti linguaggi artistici dal concerto alla musica al reading all'analisi dei testi letterari e ai dibattiti come questo. Quindi un lungo percorso che ha permesso di offrire al pubblico che è venuto la possibilità di conoscere sia gli spazi di criticità quando le culture si incontrano ma anche gli spazi di potenzialità.